Qual è in italiano la differenza tra qui e qua? Bene, se sentite un italiano che dice qui, vieni qui, vieni qua, in realtà in italiano a volte ha lo stesso significato e quindi noi nel parlare diciamo qui o qua senza neanche badare, però in realtà il qui è più preciso e il qua è meno preciso, quindi se vuoi che una persona regga proprio qui vicino a te, devi dire vieni qui, vicino a me, il qui indica meno distanza, più vicinanza, mentre il qua è più generico, ti aspetto qui davanti al negozio ma proprio qui, oppure ti aspetto qua, qui più o meno, ok? Quindi il qua è meno preciso, il qui è più preciso. Alla prossima!